Vorrei raccontarvi una storia. L'altro giorno, incontro dopo mesi, anzi quasi un anno, un mio amico durante i giorni di Pasqua, che mi dice, ma lo sai che stanno facendo una fiction sui Savoia? La RAI sta facendo una fiction sui Savoia? Io dico, sorpreso, ah, sì, bello, e riguardo a che epoca, a che periodo? Eh, mi sembra 700, inizio 600. Io sono stupito positivamente, finalmente si parla di quello, però lui mi mette subito in riga dicendomi, ah, ma guarda che sarà tipo su, non mi ricordo, Giovanna Battista, com'è che si chiama? La Madame Reale, io, no, no, perché su Giovanna Battista, Madame Reale? Ma tra l'altro quale? Poi c'è un piccolo dibattito, perché non ci si ricordava, quale delle due Madame Reale, perché ce ne furono due in Piemonte, io ero lì a supplicare, non la seconda, non la seconda, andiamo a controllare, con impotenti mezzi della tecnologia, ed è la seconda, Madame Reale, ora, vabbè, uno dice, possiamo vedere che magari la dipingono in una maniera giusta, facciamo un po' di storiografia accurata, sarei stupito e sconcertato, ma in positivo, però vado a leggere un articolo, e no, allora, ho fatto passare alcuni giorni, sono mezzo sbollito, perché è una di quelle cose, questa, che mi dà molto fastidio, nel senso, finalmente si va a trattare qualcosa di intelligente, si potrebbe farlo storicamente bene, è qualcosa comunque di interessante, invece si manda a schifiglio, dicevo, ho lasciato passare alcuni giorni, ho un po' sbollito la rabbia, mi sono andato, intanto, a vedere se l'articolo che io avevo letto per primo, e che adesso leggerò, e che mi fece esplodere in una serie di improperi, fosse l'unico che riportasse la notizia in quei termini, o la serie aveva davvero preso, sembrava quella direzione, e poi, intanto, comunque, mi sono andato a rivedere un paio delle mie fonti, per dire, magari mi ero sbagliato io, qualcosa non mi ricordavo, perché? Perché Giovanna Battista di Savoia Nemus fu una delle più grandi teste di cazzo della sua epoca politicamente, fu letteralmente quella che mise l'allora Ducato di Savoia e il Piemonte, che non era ancora neppure regno, letteralmente azzerbino nei confronti della Francia. La cosa non iniziò da lei, ma tutti sono concordi nel dire che il suo periodo è quello in cui, di più in assoluto, il Piemonte fu servo e schiavo del regno di Francia, letteralmente del tutto. fu una completa idiota, dal punto di vista politico, una che badava soltanto alle feste, spese una fortuna, lo sciò, uno stato schiavo, pieno di debiti e mezzo disarmato, nonostante le tentativi di riforma del marito. Ma chi era questa Giovanna Battista Nemus, che il figlio scacciò in modo molto deciso e potenzialmente violento dal suo posto di leggente appena compiuti i 18 anni, cioè il figlio compiuti i 18 anni scacciò la madre dal suo posto in maniera molto rude e forse, secondo alcuni, anche violenta. Andiamo a leggere Chi era Costei per le sceneggiatrici, o meglio, andiamo a leggere l'articolo, brani dell'articolo, che mi ha fatto sì tanto imbestialire. L'articolo è di fanpage del dicembre 2020, ragione per cui io sperai, appena l'ho lessi, che magari questa serie non si sarebbe mai fatta, ma non credo. Leggiamo alcune. La serie sui Savoia partirà dal 1675 e seguirà le vicende di Maria Jean de Nemus. Savoia, tra valentisi, perché allora ho raccadetto. Nata orfana. Sì, chi se ne frega. che poi non nacque orfana, perché il padre morì quando aveva 8 anni, ma questo ha pazienza. Che si ritrova a sfidare Luigi XIV, seguendo le proprie regole e sfidando apertamente gli uomini del mondo. Che cosa c'era da sfidare? Non sfidò Luigi XIV e gli uomini del mondo chi doveva sfidare era reggente a un troll. Bla 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 bla, fanno paragoni con The Crown che non ho mai visto. Poi, vabbè, parlano di Madame Reale, ignorando che ce ne fosse una seconda. Io speravo che si riferisse alla prima Madame Reale, che con tutti i suoi difetti, anche lei a servì il paese alla Francia, però bene o male salvò la corona al figlio, non solo, ma quantomeno diede un po' di lustro architettonico alla Torino. Completò i progetti del defunto marito e ne portò avanti qualcuno di suo. Quindi, politicamente male, addirittura due guerre civili, però qualcosa di una fece. E comunque sì, lei sfidò sì, appunto gli uomini del mondo, coperta dai francesi, ma questo è un altro paio di nome anni che torniamo, la nostra Giovanna Battista. Eccola qua, nata orfana di nuovo, sempre errore, non nacque orfana, che si ritroverà a diventare reggente di Savoia e Madame Reale, come se Madame Reale fosse un titolo invece che un appellativo. La chiamavano Madame Reale perché era figlia del re di Francia e quindi sarà un decennio incredibilmente turbolento, nel quale una donna vive secondo le proprie regole, sfidando Luigi XIV nel tentativo di rafforzare il ruolo internazionale della Savoia, ostentando con disinvoltura i suoi giovani amanti, vendicandosi allegramente delle amanti del defunto marito e facendo tutto ciò che è in suo potere per trasformare Torino in una nuova Atene, della conoscenza e della cultura. E possiamo finirla qui perché hanno detto tante di quelle puttanate, in poche righe, storicamente, che io davvero mi auguro che la serie vada in un'altra direzione, se qualcuno della RAE dovesse ascoltarmi, le prego di cambiare, perché fu un decennio, turbolento, non è vero, non più di tanto, a differenza dell'altra madama reale, vive secondo le proprie regole, sfidando Luigi XIV, vive secondo le proprie regole, grazie, era regente di uno stato, quindi si può fare quello che vuole, più o meno, quasi, sfidando Luigi XIV, non lo sfidò per niente, fu letteralmente, come abbiamo già detto, lo zerbino più totale della Francia, il Piemonte, in quella situazione, la seconda madama reale, Giovanna Battista di Savoia Nemours, fu lo zerbino del re sole, ma letteralmente, faceva quello che voleva, e dopo lo vedremo, il re sole faceva quello che voleva, senza neanche bisogno di chiedere, il paradosso è letteralmente questo, non chiedeva neppure, ostentando con disinvoltura i giovani amanti, ostentando i giovani amanti, cioè, che poi anche qui, seguendo le proprie regole, io ho gran paura, che questa fiction sia, di nuovo, una roba, una solita battaglia di genere, insomma, le donne che devono far vedere, che anche loro, devono dettare, hanno dettato leggi, o hanno comandato, eccetera, cosa che chiunque studia la storia, dovrebbe sapere, altra cosa che chi studia la storia, dovrebbe sapere, secondo le proprie regole, ostentando Giovanni Amanti, perché all'epoca non si faceva, la gente deve capire, che le donne, scopavano, e hanno sempre scopato, nel medioevo, e nell'età moderna, potenzialmente più di oggi, come oggi, non esageriamo, era una cosa normale, avere gli amanti, e averne tanti, magari in un ambito, di una regina, che il marito mica tanto, almeno nell'età fertile, ma in una regina reggente, di sicuro, ma anche le altre dame di corte, scopavano le sue regole, ma quali sue regole, le regole della società dell'epoca, tranquille, le donne scopavano, gli uomini scopavano, come sempre, si divertivano, eccetera, queste erano le regole, forse l'unica regola di Giovanna Battista, era un po' il divertimento, nel frattempo, la prendeva in quel posto da un sacco, per di più, Giovanna Battista, a differenza della prima madama reale, secondo diversi storici, era succube, nei rapporti amorosi, succube, nel senso che, mentre gli altri, la prima madama reale, intratteneva rapporti con diversi uomini, ma poi finiva lì di la cosa, la seconda madama reale, spendeva soldi per loro, dilapidò il bilancio dello Stato, anche per questi, questi uomini, questi giovani amanti, che lei ostentava, la sfruttavano, questa ci ha buttato via, non i milioni, sì, in pratica, i milioni, quelli che oggi sarebbero milioni, annichilendo il bilancio dello Stato, per il divertimento, le sue regole, il divertimento, via i soldi, ma tanti, era anche succube, i suoi giovani amanti, la sfruttavano, fine, che poi appunto, tutti scopavano, tutto qua, io ho paura, che le sceneggiatrici, vogliono dipingere questa cosa, come è appunto, un inno, il solito inno modernista, alle donne che prevedono i tempi, che già appunto, si davano la gioia del vivere, che c'è sempre stata, sempre ci sarà, ma, diamine, ci sono state donne, che si sono date la pazza gioia, con la testa, e soprattutto, non buttando via uno Stato, quelli che era stato affidato, perché appunto, completamente schiava di Luigi XIV, poi di qua, ecco, questa frase mi ha fatto impazzire, vendicandosi allegramente, delle amanti del defunto marito, ora, chi ha scritto sta roba, una tristenza immensa, perché che cosa vuol dire, vendicandosi delle amanti, del defunto marito, cioè, se vuol dire, vendicandosi del marito, che è morto, è la roba più triste del mondo, tanto è morto, cioè, tu ti vendichi, di una persona morta, che quindi, non gli frega niente, è sotto terra, ma, oppure, per chi crede, è nell'altro mondo, fondamentalmente, non gli frega un cazzo, di chi ti scopi in quel momento, e se, ti devi vendicare delle amanti, ma, potevi farle sparire, c'era necessario, eh, perché no, perché così, immagino, debba vendicarsi, nel senso, eh, siccome lui mi tradiva, allora io dimostro, che anche le donne, possono tradire, tra l'altro, non tradire niente, perché è già morto, e quindi, tradire niente, che roba, che roba davvero triste, tristissima, eh, vendicandosi del amante, poi questo qua, e facendo tutto il suo potere, per trasformare Torino, in una nuova Atene, della conoscenza e della cultura, una gran cavolata, tant'è che, se suo marito, aveva dato un minimo di rinnovamento, quando suo figlio, salirà al trono, la situazione della Torino, eh, accademica, universitaria, è talmente schifosa, che si riduce, a una decina di professori, che non hanno i soldi in tasca, e non hanno nessun prestigio, tant'è che, il figlio rinnova anche l'università, cioè, Maria Giovanna, è davvero stata, una delle più fallimentari, su tutti i punti di vista, grazie a Dio, è durata solo un decennio, Maria Giovanna, e una cosa che ripeterò, alla fine del video, ebbe un solo pregio, in vita sua, via due, uno appunto, mise al mondo il figlio, due, dato che, eh, sfruttò il figlio, cioè, sfruttò il figlio, sfruttò la posizione, che aveva sul figlio, ed era così attaccato, a questo potere, che comunque non portava a niente, per il bene dello Stato, ma neanche per sé, che il suo unico altro pregio, nella vita, fu, crescere, anzi, non crescere, farsi odiare, dal figlio, rendendolo, una persona, tremendamente furba, astuta, sotto certi punti di vista, infame, sgamatissima, non per niente, era chiamata, sarà chiamato, Vittorio Medeo II, la Volpe Savoiarda, e con due coglioni, così, Vittorio Medeo, sarà davvero quello, che renderà, lo Stato di Savoia, indipendente, e anzi, farà il balzo, alla corona, nel senso, che diventerà, il primo re di casa Savoia, ma la madre, fu un totale, un totale, enorme fallimento politico, una testa di cazzo, politica, la più grande testa, di cazzo politica, della sua epoca, in Italia, sicuramente nel Piemonte, attaccata al potere, molto più che al figlio, a differenza, almeno, della suocera, lo perse comunque, e nel poco, per quel decennio, che l'ebbe, ebbe a fare una serie, di cavolate, immense, altro che appunto, rilanciare, opporsi al re sole, combattere, per l'indipendenza, della Savoia, non fece niente, di tutto questo, la rese completamente, schiava, del re sole, della Savoia, adesso, io, sfinito questo, andrò a leggere, giusto due estratti, molto semplici, di, un libro, che sto usando, anche per il video di Torino, ah sì, perché il video di Torino, è Torino, è Vittorio Mediosecondo, non esattamente con Torino, ma con Torino, raggiunge l'Avice, in cui davvero, diventa indipendente, mica sua madre, che grazie a Dio, l'unica cosa bella, di sua altra, è che è riuscita a vedere, il trionfo del figlio, che di fatto, l'ha tenuta dopo in carcere, se così si può dire, secondo alcuni, quando il figlio, cioè, l'odio talmente tanto, che, secondo alcuni, quando, le prese il potere, perché di per sé, la regenza finì a 14 anni, però, si proseguì, perché di fatto, era ancora un ragazzino, il figlio, con Giovanna Battista, che le prova di tutte, tra l'altro, per ottenere il potere, ma appena arrivato a 18 anni, Vittorio Medio, la prese, in pratica, le disse, allora, o te ne vai, o ti trovano domani, in un fosso, non le disse questo, però, molti ritengono, che, dietro al proclama, in cui si assumeva, tutti, tutto il potere, Vittorio Medio, abbia fatto intravedere, concretamente, alla madre, la morte, e lì, allora, Giovanna Battista, si tirò indietro, senza, quasi, anzi, sì, senza colpo ferile, facendo piccole vendette, che non cambiano niente, adesso, andiamo a leggerci, appunto, due passetti, di due autori, che la liquidano così, anche perché non c'è niente da dire, non fece niente, sul Giovanna Battista, facciamo prima, no, partiamo prima dalla Bibbia, la Bibbia, perché in Savoia, che è Cognasso, ho tenuto il segno con delle cuffiette, molto professionalmente, devo dire, e leggiamo, giusto, due particine, veloci, veloci, te 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 te, principio, fai un giuro di nuovo, una reggente francese, sì, perché era completamente francese, quindi, eh, Cognasso la liquida, in poche parole, mente debole, vanitosa, Giovanna Battista, poteva desiderare, di continuare il più possibile, in questa posizione, direggente, apparentemente, di splendida dominatrice, poco curando, che in realtà, non, in realtà, chi governava, fosse il rappresentante di Versailles, neanche il re suolo, proprio il rappresentante, non ordini, non desideri, esprimevano i francesi, ma disponevano, cioè, letteralmente, non chiedevano neppure, facevano, e non si lamentava neppure, Giovanna Battista, il paradosso è questo, nel 1677, l'esercito francese, avviato in Lombardia, attraversa il Piemonte, senza chiedere autorizzazione, così, nel 1681, le truppe che vanno ad occupare Casale, nel 1682, un corpo di cavalleria, entra in Piemonte, per sorvegliare, quello che si fa Casale, e questa, è l'indipendenza, che, le sceneggiatrici, Rai, dicono, che Giovanna Battista, ha procurato al Piemonte, la Savoia, questa era una schiava del re suolo, letteralmente, cosa dai a una schiava? Il cibo, magari qualche svago, e nient'altro, talmente schiava, tra l'altro, che appunto, viene fatta fuori dagli altri, non è il re suolo, perché il re suolo, gli andava benissimo, non farla fuori, si oppone prima, la corte di Torino, come adesso vedremo, che pure, era anche essa, un po' filo francese, capisci che, se è la corte filo francese, che ti fa fuori, perché sei troppo, schiava dei francesi, altro che indipendenza, hai cercato tu, e poi il figlio. Ecco, cioè, Giovanna Battista, se mi aveva tranquilla, con la pensione, vitalizia promessa, la d'arrea, e pensioni pure, e godono i suoi ministri, che eseguono gli ordini di Versailles, in altre parole, è pagata lei, e alcuni dei suoi ministri, direttamente da Versailles, non con la rendita dello Stato, essendosi ammalato, il duchino, il figlio, il futuro avventore Medio, e qua ragioniamo, vediamo quant'è indipendenza, l'indipendenza, questa forse è l'unica indipendenza, la madre non esitò ad offrirsi in moglie al principe di Carignano, un cugino, che poi riguarda la rama, essendosi ammalato il duchino, la madre non esitò ad offrirsi in moglie al principe di Carignano, per averne figli, e continuare a regnare, che amore materno, ecco, e per eliminare il figlio da Torino, in realtà qua sto rispondendo a Parigi, progettò di sposarlo alla cugina di Portogallo, la figlia della sorella, in altre parole, il Piemonte sarebbe stato così alla marce del re di Francia, e sarebbe stato inglobato nella corona portoghese, questa valeva talmente tanto, e poi ricordatevi, tutti gli storici, non solo Cognasso, ma tutti, dicono questa come se fosse, è uno degli apici del suo regno, dei suoi tentativi di fare politica, mentre le segnaleggiatrici Rai dicono che questa, lottava per l'indipendenza, uno dei pochi evinti del suo regno è il tentativo di far sposare il figlio all'infante di Portogallo, in modo tale, che così magari il figlio andava a divenire il re di Portogallo, ma sicuramente la Savoia, il Piemonte, diventavano una colonia, letteralmente, diventavano un possedimento, alla stregua di Milano, che all'epoca era degli spagnoli, o di Napoli che era degli spagnoli, o di Milano che dopo sarà degli austriaci, quello sarebbe diventato il Piemonte, c'è questa testa di cazzo, immaginatevi cosa ha fatto, se ci fosse stata Giovanna Battista, non ci sarebbe mai stato nulla, dimenticatevi tutto, dimenticatevi l'unità d'Italia, dimenticatevi tutto la storia del Settecento e dell'Ottocento, se questo avesse vinto, sarebbe stato un disastro completo, probabilmente non ci sarebbe mai stata l'Italia. Il Principe evita questo matrimonio, solo perché la corte, appunto nonostante sia semifilo francese, si oppone perché c'è un rigurgito di indipendenza, tant'è che si rifiutano i nobili piemontesi di essere svenduti e portoghesi, addirittura c'è quella famosa frase che dice un cortigiano al ducca, al duchino anzi, non si azzardi vostra altezza a lasciare sudditi come noi, dove ne troverebbe di più minchioni, riferito evidentemente al fatto che comunque si facevano ancora mettere piedi in testa dai francesi. Tuttavia, Vittorio Amedeo qua aveva già 16 anni, due anni dopo, perché figli non c'è nient'altro da raccontare, altro che intrighi, gli intrighi sì ce ne sono qualcosina, ma gli intrighi sono durante il regno del figlio, perché non ha raccontato la storia del figlio? Due anni dopo, la madre ottiene un altro matrimonio, un matrimonio guarda caso con un'altra francese, e stavolta Vittorio Amedeo sembra cedere, anzi Vittorio Amedeo cede di fatto, e sposerà quella che poi sarà la sua prima moglie, peccato che nel momento stesso in cui cede, Vittorio Amedeo si porta a Moncarrieri, si circonda di truppa, anzi sì, si circonda di truppa, e dice, si avvoca tutto il potere dello Stato, dichiara la madre assolutamente decaduta, e appunto, come abbiamo visto, forse le fece pervenire velatine minacce, in cui si diceva che se non si levava subito, sarebbe morta, in maniera molto poco spettacolare. Sì, no, non a Moncarrieri, si reca a Rivoli, perdonatemi. Cosa? Questa sì, come dice anche Cognasso, la madre non è che si rassegnò, di fatto, cioè, si rassegnò, ma a parte qualche meschina vendetta, di poco conto, non potrei fare niente, come vedremo, ma chi è che si arrabbiò di più, inizialmente? Versailles, come dice Cognasso, perché? Perché il vero padrone, era il re di Francia, Luigi XIV era il vero padrone di Madame Reale, Madame Reale, Giovanna Battista di Saura Nemours, era una schiava, vero e sole, neanche la bocca di Saura, non per fare un paragone, no, proprio un archetto, una schiava, niente, non valeva niente, tant'è che, appena Vittorio Amedeo fa fuori la madre, metaforicamente, politicamente, a Versailles, il re grottò la fronte, quando seppe che l'aquilotto Sabaudo, aveva preso il primo volo, senza il suo consenso, frase emblematica, che fa capire, che in realtà, il re sole, si sarebbe potuto disfare, anche di Madame Reale, non voleva, perché faceva i suoi comodi, ma in realtà, non è che, si opponesse Madame Reale, faceva il gioco del re sole, anzi, neanche faceva il gioco, era la schiava del re sole, il re sole, volendo un domani, avrebbe anche potuto passare potere a Vittorio Amedeo, quando avrebbe voluto lui, a Versailles non andò bene, che Vittorio Amedeo si prese il potere, facendo fuori la madre, senza averlo richiesto a Versailles, questo per dire, l'indipendenza, che Giovanna Battista, sicuro la Savoia, io ho una gran paura, che la fiction rai sia una disgrazia, prendiamo un altro libro, appunto, che sto utilizzando, per il video, sulla battaglia di Torino, Capitani di Casa Savoia, dello Stato Maggiore dell'Esercito, di Ciro Paoletti, altro grande autore, avevo preso già il segno, vediamo, poi partiamo in quarta proprio, fu uno dei periodi, il periodo di leggenza di Giovanna Battista, fu uno dei periodi peggiori per il Ducato, perché Giovanna Battista, appartenente a un ramo cadetto, trapiantato in Francia, decisamente francese nell'animo, si tenne strettamente nell'orbita della Francia del Ligio XIV, rendendo lo stato di suo figlio uno dei satelliti meno importanti e considerati tra quelli che attorniavano il Re Sole, e c'è neanche uno schiavo fidato di alto livello appunto, uno che non conta niente, che sai che è lì, appunto disponi, non gli dà neanche l'ordine, tu fai quello, sta lì, è costretto a pagarti i soldi, eccetera eccetera, a farti passare, ma sta lì, non gli dà neanche l'ordine, non lo informi neppure, cioè tu mandi l'esercito, ne vieni informato quando l'esercito arriva e passa per il suo terreno. Fu il trionfro della fazione francofila che aveva messo le mani sulle leve del potere, di quel poco potere locale che i francesi avevano lasciato ai piemontesi. Ecco giustamente, e per contrasto provocò la riscossa Savauda incarnata da Vittorio Medeo II, che proprio per evitare a sé e ai suoi successori ciò che aveva dovuto subire in gioventù da parte dei stranieri e dei loro sostenitori, avrebbe dedicato grande energia alla costruzione di uno stato, di una classe dirigente, di un'aristocrazia, aggiungo io borghesia, totalmente nuova e diversa, gettando le basi per l'unificazione dell'Italia sotto lo scettolo di Savoio. E di nuovo, Vittorio Medeo aveva una personalità complessa, resa dura e sospettosa dai fortissimi contrasti con la madre, in effetti Vittorio Medeo II sotto certi punti di vista sviluppò, specie negli anni, una realtà psicotica, cioè obiettivamente aveva dei disturbi di sospetto, di continuo, di informazione, si diceva addirittura che andasse per le strade a informarsi, anzi, andava per le strade a parlare con i popolani e informarsi di persona senza fidarsi di nessuno, con pochissimi amici, persino le amanti tenne, perché è un'altra amante francese e lì si sa benissimo che la caccia, oddio, la minacciò velatamente quando appunto Luigi XIV gli inviò qualche messaggio per fargli abbassare la cresta, lui rispose il re ci lascia in pace con le nostre donne, le nostre mogli, le nostre madri, anche qua messaggio, frecciata la madre, e le nostre amanti. L'amante del momento che pare fosse in combutta con il Re Sole che era presente appunto quando Vittorio Medeo parlava con l'ambasciatore francese, il giorno dopo fuggì perché evidentemente aveva capito che su di lei si sapeva già abbastanza. Comunque, poi altre cosette, ricordiamo sempre quanto fosse indipendente questa madama reale, la seconda, con questa simpatica, l'ultima piccola vendetta che si prese, fallendo tra parentesi, nei confronti del Re Sole perché è un servo, madonna davvero, è un servo talmente basso madama reale del Re Sole che appunto già non lo contavano, non serviva a niente ma era anche infima nell'animo tant'è che quando il figlio sta già iniziando a organizzarsi da qualche anno e a mettere i primi capisaldi del suo potere e soprattutto sta davvero tentando e ci vogliono degli anni apposta proprio perché era completamente suddito quando c'era la madre sta davvero tentando di rendersi indipendente dalla Francia cosa fa Luigi XIV? Luigi XIV chiede 3000 uomini al Piemonte però Vittorio Medeo II poiché Luigi XIV gli aveva poi evitato di ricorrere a nuovi ruolamenti rendetevi conto appunto questo in epoca di madama reale rendetevi conto quanto era indipendente imponendogli pure di limitare gli effettivi dell'esercito ducale hanno più di 2000 uomini questa è la indipendenza di madama reale rispetto al XIV un esercito di 2000 uomini a fine 600 in un territorio che comprendeva metà del Piemonte la contea di Nizza e la Savoia 2000 uomini 350 anni prima per una spedizione in soccorso dei veneziani un Savoia era entrato in guerra era sceso era andato a Milano con il triplo degli uomini 300 anni prima per una spedizione piccolina 2000 uomini a fine 600 rendetevi conto che cosa vogliono dire di 1000 uomini questa è la indipendenza comunque gli aveva imposto appunto 2000 uomini di effettivi massimo Vittorio Medeo gli aveva richiamati perché appunto diceva che aveva bisogno di uomini ma invece Luigi XIV tenta un raggiro e offre i suoi uomini invece di due uomini di Vittorio ma questo non ci interessa quello che ci interessa appunto ma in realtà manteneva debole imponeva un esercito di occupazione però capite che Vittorio Medeo già sta tentando di svincolarsi tant'è che dopo in realtà questa cosa non va a buon fine ma quello che ci interessa è questo per di più Versailles a Versailles si sapeva che le forze sabaude ammontavano a 9-10 mila uomini poiché Madame Reale la filo francese madre di Vittorio Medeo aveva mandato al ministro Louvì una copia del bilancio di quell'anno da cui risultava un'entrata di 8 milioni di lire e la forza dell'esercito ora questa era l'indipendenza della madre di Vittorio Medeo questa era l'indipendenza di Madame Reale che è scacciata cioè scacciata dal potere quando il figlio davvero inizia ad essere indipendente cosa fa? manda la copia del bilancio dello stato piemontese uno stato teoricamente mezzo sovrano al re di Francia questa è una cosa di spionare cioè a quel punto si riduce ad essere una sorta di spia che tra l'altro neanche tanto perché non viene pagata e non ottiene niente vedrà tutti i suoi disegni andare a male cioè manda una copia del bilancio piemontese e sapendo che lo sta perché per colpa sua lo stato piemontese non potrebbe avere più di 2000 soldati gli dice che gli manda dei documenti in cui si dice che l'esercito piemontese in tempo di pace invece è 5 volte più grande avendo 10.000 uomini questa è l'indipendenza di madama reale che le sceneggiatrici della Rai e che ha scritto l'articolo di fanpage dice che rese la Savoia indipendente questa grazie a Dio fu messa da parte dal figlio che la trattò male che diventò forse mezzo psicopatico ma un genio un fottuto genio della politica e che guarda un po' te diventò davvero indipendente e in grado di fare a far fare a grande balzo fu Vittorio Medeo II a essere indipendente la madre fu una schiava di poco conto poco o nullo conto come abbiamo visto dei francesi altro che indipendenza sfoggiava nobili amanti era schiava dei suoi amanti lottò per l'indipendenza sfidò Luigi XIV non sfidò mai Luigi XIV ne fu la serva più fedele più trattata ma neanche più fedele un cane ottiene più rispetto dal suo padrone al cane dici cosa deve fare lì invece la faceva cadere non poteva dire niente ah si organizzò delle feste gli intrighi probabilmente sono questi organizzò delle feste si dice per tentare questo lo dice anche Montanelli che non è un grande storico ma qua in effetti anche altri storici più elevati dicono questa cosa per tentare di sviare il figlio dalla politica farlo correre dietro le gonnelle cosa che Vittorio Medeo fece benissimo tra l'altro anche troppo capito? ma questi sono gli intrighi una che seguì le sue regole perché scopava ma tutti scopavano tutti hanno sempre scopato e tutti scoperanno sempre se no il mondo non va avanti le donne una donna indipendente grazie è la fede è una regente di uno stato le sue regole scopare tutti scopavano le sue regole non esistevano si divertiva perché l'unica regola erano quelle del re di Francia che vedeva un utile serva che si dava ai piacere della vita proprio la schioma della terra quello che direbbe uno se non fosse che tutti scopavano per carità poi lungi da me giudicare ci mancherebbe ognuno le sue vizie ma tutti lo possono fare però ci vuole il cervello quando sei a capo di una nazione nazione di uno stato almeno questo è per articolo di fanpage leggiamo avevo letto anche un articolo della stampa in cui non mi ricordo se l'autrice o l'autore quel che legge almeno davano dei raguagli per cui io spero che le sceneggiatrici abbiano fatto di meglio rispetto a quanto si legge da tutti gli articoli in particolare fanpage perché poi sono tutti articoli copia e incolla e sia chiaro in cui davano almeno qualche miglio qualche raguaglio più vero della della sua realtà abbellisce Torino Guarini Iuvarra si sono cose che fece il figlio soprattutto però vabbè pazienza soprattutto Iuvarra fu chiamato dal figlio ma pazienza ma io potrò ecco questa frase della stampa è bellissima ed è geniale perché in effetti dipinge la realtà storica le due sceneggiatrici hanno immaginato immaginato una donna forte caparbia e superbia con un cuore da re capace di guidare il figlio nelle scelte politiche e dinastiche una completa imbecille che non aveva sicuramente non era una donna forte perché se sei sfruttata dai tuoi amanti non sei forte caparbia caparbia non mantiene il potere ma neanche tanto in quello perché il figlio l'ha presa superba su questo probabilmente non ci piove con un cuore da re che rischio scusate no non aveva un cuore da re era una debole era una schiava con un cuore da schiava mi dispiace dirlo una schiava che perché quello che tentò di fare col figlio di fatto era quello che Luigi XIV faceva con lei le feste la pensione e tu eseguiva gli ordini anzi non eseguiva gli ordini faceva di tutto perché gli ordini fossero eseguiti dai serbi più importanti del padrone perché appunto con lei non chiedevano neppure non valeva la pena era una schiava una dominatrice schiava fine tutto lì non valeva assolutamente niente quindi ho paura che questa a meno io mi auguro vivamente magari riuscirò anche a seguirla ma io spero vivamente che questo progetto non si faccia se è così perché vuol dire che di nuovo mi dà un orrore perché sembra che si tenti di fare qualcosa di nuovo di interessante di storico e si potrebbe fare perché io ho pregato tantissimo tra virgolette che si facesse una fiction su quel periodo che è così interessante così misconosciuto e dimenticato dagli italiani nonostante il fine sedecento soprattutto il settecento è una chiave di volta essenziale per me è la chiave di volta essenziale e per questo pregavo che lo si facesse su un periodo più serio ma fallo sul regno di Vittorio Medeo Giovanna Battista tienila facci un sì cioè nel senso fa la presente all'inizio ma il regno di Vittorio Medeo che gli intrighi anche per come finisce lui sì che fa davvero intrighi ma è lui davvero che si rende indipendente tra parentesi ci tiri in mezzo anche magari una platea che è interessata oltre alle bombate che non guastano mai lo sappiamo anche magari un po' di guerra ma forse il budget non ce lo permette perché siamo degli italiani siamo poracci quindi le poche glorie che abbiamo avuto per secoli ce le siamo dimenticate chi si ricorda di Torino chi si ricorda di tutti gli altri assedi di quella guerra di successione e delle sconfitte come Marsaglia Orbassano che sono sconfitte per modo di dire anche perché vabbè lasciamo stare non facciamo un discorso tattico strategico al momento ma chi si ricorda di tutto il periodo successivo di tutto quello che fa in Savoia cioè in quel momento cioè Vittorio Medio è quello che riforma totalmente il catastro è quello che dà l'avvio alla grande riforma catastrale questo è l'argomento della mia tesi di cui dovrò parlare in un altro video che sono quelle che dicono per la prima volta e molto prima della Francia che tu non vali davanti al fisco davanti allo Stato davanti al giudice in base a quanto sei nato ma in base a quello che hai non in base ai titoli nobiliari e alle esenzioni Vittorio Medio è questo e poi vabbè finisce con degli intrighi la sua vita probabilmente forse anche sfatto da qualche malattia forse Vittorio Medio davvero era quella la storia da narrare perché mi narri questo e invece fai invece no dobbiamo parlare ancora di una donna perché dobbiamo ammettare del crown perché di donne potenti non ce ne sono state abbiamo preso madama reale perché perché io ho la brutta paura che abbia appunto l'idea abbiamo questa idea delle donne che devono essere indipendenti perché scopano che hanno sempre scopato e questa era una tra virgolette una sfruttata da quella dagli suoi amanti con proprio niente se non potevano premendere madama reale altre donne di potere ce ne sono state sì ce ne sono state in casa Savoia hai voglia cioè perché dobbiamo sempre ridurre la storia solo a questo noi italiani non siamo in grado di alzare un po' il livello ma soprattutto anche di dire la verità perché io devo andare qua e sentirmi dire un sacco di boiate quanti italiani se la vedranno si ricorderanno questa testa di cazzo della sua epoca perché era una testa di cazzo serva dei più potenti serva meschina e neanche considerata dei più potenti come una grande che tentò l'indipendenza non tentò l'indipendenza fu una schiava completa il figlio la prese e la cacciò in pratica e lui si prese l'indipendenza perché dobbiamo pensare a questo perché era una donna aveva le sue regole scopava tutti scopavano tutti hanno sempre scopato questa non era faceva solo quello però non era una donna forte né indipendente era una schiava una serva punto e stop perché dobbiamo andare a mentire sulla storia e raccontare delle palle io mi auguro davvero che la fiction non dica questo vedremo se seguirla mi auguro vivamente che se è così non parta neppure perché dirà menzogno sono menzogne e poi io cosa posso dire io potrei vedere che appunto questo negare la storia soltanto perché è una donna è scopata cioè tutti hanno sempre fatto così ma altri con il potere rendendosi indipendenti il mondo non si riduce a essere scopate puoi fare quello ma nel frattempo hai del potere e lavori per il potere e ti fai un mazzo così per l'amministrazione non organizzi sono feste per fare in modo che anche il tuo figlio diventa uno schiavo se non che il tuo figlio si ribella e ti mette in un cantuccio unico merito di madama reale aver reso il figlio uno psicopatico aggressivo furbo come pochi che davvero farà il balzo e poi appunto ci sono state donne che hanno preso il potere appunto perché lei non prende neanche il potere lei se lo trova ci sono state donne che hanno preso il potere o comunque che una volta ottenutolo presolo avutolo l'hanno saputo gestire meglio bene cento volte bene fare del bene agli altri a se stesse o avere del potere in generale sì ce ne sono state ce ne sono state in casa sua voglia sì ce ne sono state l'altra madama reale neanche tanto ma ce ne sono state altre tante ma anche altre reggenti ma fin da subito dall'inizio della dinastia adelaide di susa subito inizio della dinastia siamo nel 1100 ai livelli di matilde di canossa anzi va da mediatrice tra matilde di canossa il papa e l'imperatore perché questo si è vero potere nonostante la sua voglia contasse molto di meno all'epoca e ma perché non l'hanno fatta su matilde di canossa ah già perché matilde di canossa non era una puttana detto questo scusate breve video sfogo vado avanti con il video di Torino che dà molte più soddisfazioni sicuramente molto meglio e ci vediamo la prossima il prima possibile e speriamo che la Rai ma in generale che la storia sia fatta da gente che vuole narrare la verità anche perché non ci vuole niente a farlo in questo modo poche cose fatte bene che Dio ce le mandi buone alla prossima sono zack e zack